Il 18 e il 19 giugno accompagnerò tutti voi ospiti graditi a conoscere da vicino tutto il territorio dell'olovicultura eroica, olio, quella dei buretti a secco per capirci, quella riconosciuta come patrimonio mondiale dell'umanità. Non ci sarà da portare delle corbe in collo, saranno giornate meravigliose, non dico il cazzeggio ma si narrerà delle storie, si racconteranno delle cose, faremo vedere come si produce l'olio, la fatica con cui si produce, quasi molto belli i posti meravigliosi e tranquilli non vi farò lavorare, lo dico subito, ma vi farò conoscere l'olio di Riviera Ligure Dopp, olio Riviera Ligure Dopp e mi raccomando agli scivoloni perché comunque tutto sto aglio saranno delle giornate abbastanza scivolose. Potevo dire dell'altro ma ci vediamo veramente lì, state allegri e buona notte a secchio.